Ciao a tutti, in questi giorni Bonaccini ha commentato i dati sull'occupazione usciti e come sempre perde i consensi ma non il vizio per parafresare un modo di dire, infatti continua a raccontare la favola per cui quando qualche cosa va bene in Emilia Romagna è merito suo e quando qualche cosa va male dal 4 di marzo dell'anno scorso in poi è colpa del governo a Roma. Peccato che Bonaccini si dimentichi qual è la situazione, qual è sempre stata la situazione e la storia dell'Emilia Romagna, grazie a Dio l'Emilia Romagna non è una di quelle regioni con le maggiori difficoltà dal punto di vista occupazionale, siamo sempre stati tra le regioni del nord con meno problemi di disoccupazione e grazie a Dio la situazione dipinta da Bonaccini è una situazione per noi tutto sommato normale. Ovviamente risentiamo ancora degli effetti della crisi, purtroppo sono 11 anni che i dati ovviamente non sono quelli di un tempo ma possono essere comunque paragonati e parametrati a quelli di altre regioni del nord Italia come ad esempio il Veneto, la Lombardia che sono comunque appunto delle situazioni economicamente, lavorativamente paragonate alla nostra. Quindi questa favola dei record in Emilia Romagna da quando c'è lui è appunto una favola ed è un racconto che continua anche lui stesso a dire a se stesso appunto forse per convincersi di una realtà che in realtà non esiste. Dimentica però il nostro Presidente un aspetto fondamentale per l'Emilia Romagna, cioè noi siamo purtroppo anche tra le regioni del nord una di quelle regioni che ha più working poor's. Cosa sono? Sono persone che pur lavorando si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa dei bassi redditi che hanno e delle basse buste paga che ci sono in Emilia Romagna. Tant'è che ad esempio gli ISEE sotto i 9.000 euro sono numericamente più alti in Emilia Romagna che in regioni come Veneto o Lombardia appunto per continuare il paragone con le altre regioni del nord. Questo è un aspetto fondamentale ed è uno dei temi da affrontare che si sta cercando di affrontare e di risolvere anche a livello nazionale con il progetto di legge sul salario minimo perché non basta lavorare ma bisogna anche lavorare bene e bisogna avere anche ovviamente un reddito tale da poter concedere una vita dignitosa alle persone. L'altra cosa che dimentica Bonaccini è che in questi giorni sono usciti i dati stat a livello nazionale e non solo la situazione in Emilia Romagna è tra virgolette normale per una regione come la nostra ma se qualche beneficio c'è stato non credo sia merito di Bonaccini ma bensì del decreto dignità. Infatti i dati stat dicono che ad oggi da quando è uscito il decreto dignità i primi risultati si iniziano a vedere. Infatti a livello nazionale c'è stata una diminuzione del 2,6% della disoccupazione. Probabilmente in Emilia Romagna stiamo beneficiando delle azioni del governo centrale. Quindi caro Presidente cerchiamo un attimo di fare mente locale e di raccontare le cose come stanno. Iniziamo a raccontare che finalmente a Roma qualcosa è cambiato e si sta cercando di fare il bene dei cittadini e non solo del proprio elettorato raccontando cose che ad oggi non esistono.